Aumentano i casi di Covid in città, come pure il ricoveri all'ospedale San Salvatore, con la variante che è molto più contagiosa. Per lo più si tratta di pazienti fragili, già con patologie, ma non si deve abbassare la guardia. Direi un'incidenza aumentata, in parte prevista perché questa variante si sapeva che era più contagiosa e quindi stiamo tornando a occupare i posti letto con pazienti Covid. Chiaramente il tipo di popolazione che ricoveriamo è quella che tutti conoscono, soprattutto pazienti anziani e fragili. Alcuni casi ovviamente complessi, perché quando si ricoverano hanno soprattutto polmoniti, quindi non bisogna abbassare la guardia. E' efficace, secondo lei, un'ulteriore campagna vaccinale per il Covid? Assolutamente sì, soprattutto per i pazienti fragili. Ribadisco il concetto, il vaccino ha salvato milioni di vite nel mondo e ha dato anche una svolta. Chiaramente poi i virus si adattano, diventano meno aggressivi e c'è stata un'evoluzione naturale della malattia, meno pericolosa rispetto all'inizio, però non bisogna abbassare la guardia perché alcuni soggetti a rischio possono scontare le conseguenze gravi del Covid. Domani intanto, nel centro congressi Zordan dell'Ateneo, si terrà un convegno dedicato alle nuove terapie e alla diagnosi precoce dell'HIV con molti esperti. Patologia ancora molto presente, nonostante se ne parli meno proprio a causa del Covid. Noi in questo convegno, il nostro obiettivo è quello di portare novità circa la terapia antiretrovirale, quindi la possibilità per i soggetti di infezione d'HIV di tenere sotto controllo la malattia. Avremo poi esperti che vengono da Milano a parlarci anche di PrEP, cioè la profilassi, per evitare di contrarre l'infezione, che è una novità che in Italia è arrivata da un annetto, che è prevista anche un rimborso da parte di AIFA per questo tipo di terapia, quindi sicuramente una novità che aiuterà a ridurre il numero di casi che in Abruzzo, come è stato detto, purtroppo viaggiamo come terza incidenza a livello nazionale. L'obiettivo è migliorare anche la qualità della vita dei pazienti? Assolutamente, le terapie adesso sono molto efficaci, l'obiettivo è andare a scegliere la terapia adatta per il paziente giusto, per migliorare la sua qualità della vita, lo dobbiamo fare in un convegno che è organizzato come una scuola per i giovani infettivologi, proprio perché anche i giovani infettivologi hanno bisogno di sentire parlare più spesso di HIV, che è un argomento che soprattutto dopo la pandemia del Covid è andato un po' dimenticato anche nelle malattie infettive universitarie.